Tutti insieme per dare un calcio al pregiudizio e un sostegno a chi ne ha bisogno e diritto. Il disagio psichico deve fare i conti ancora oggi, anno 2020, alle porte, con alcune sacche di disinformazione, a fronte di una problematica in forte espansione. I numeri purtroppo sono in crescita, sia sul fronte degli adulti e sia sul fronte dei giovani. E questo è un dato molto allarmante, è un dato in crescita non solo nella regione Veneto e nella provincia di Belluno, ma anche in Italia. Diciamo che è un dato in crescita nelle società evolute, perché la marginalizzazione di chi non riesce a stare sempre al passo è sempre più forte. Le priorità? Una nuova sede più adeguata per la comunità di Borgo Rugafeltre e più personale, non solo medico, chiede l'Aizam, in un dialogo tra privato e pubblico che sia sempre più stretto e produttivo. Intanto il volontariato, nato molto spesso dalle esperienze familiari, si dà da fare con ogni mezzo e strumento, come nel caso dell'associazione Tutti in Campo. L'associazione si svolge solo con attività di persone di volontariato. Ci sono 13 persone che per 5 giorni alla settimana si recano nei nostri laboratori, e ci sono diversi laboratori, per seguire queste persone, per dare stimoli nuovi, per dare anche abilità nuove, per fare in modo che il disagio sia minore di quello che c'è. È riuscita intorno a sé a creare una rete con i comuni, con l'azienda e con altre associazioni. Mi riferisco a trasporti, altre attività ricreative, ludiche, che svolgono all'interno dei loro laboratori, di una sorta di centro diurno che è dotato di attrezzature, in cui praticamente le persone con disagio sviluppano la loro fantasia, rimuovono le loro gioie e i loro dolori, mettendo allo scoperto quello che potenzialmente non riescono a fare da soli. Un percorso ancora lungo e non privo di difficoltà, ma che vuole guardare al futuro con fiducia. Tutti gli attori locali che ci sono qui nel nostro territorio, l'azienda ULTS, l'associazione Tutti in Campo, Aidsam, i comuni, cercano di fare da tempo quello che è possibile, con l'obiettivo ovviamente di migliorare. Da qua ai prossimi mesi sicuramente verranno messe in piedi progettualità importanti, alle quali i comuni non mancheranno di dare il loro apporto. E se è vero che la bellezza salverà il mondo, quale terapia migliore di quella che viene dall'arte, come le rappresentazioni del gruppo Il Gabbiano, i disegni che saranno esposti nell'atrio dell'ala nuova dell'ospedale di Feltre fino a fine gennaio, o le canzoni dei Figli del Sole. A colpa fu del rosso fiorelline per la vera del mercatore, Signore, a colpa fu... Grazie a tutti.